Io vi ringrazio, ringrazio voi e Angelo Zaccone per questo invito e per avermi inserito senza alcun merito mio perché io non ho fatto nulla per questa iniziativa nel comitato scientifico di questo convegno e di tutto il resto che seguirà, di cui sono molto grato per la verità perché noto che c'è tutta una rete di amicizie, di connessioni che si stabiliscono in queste iniziative che vanno al di là della volontà individuale. Io ho scritto sulla rivista Eidos, ho lavorato anch'io con Basaglia, mi sono occupato di cinema e di artisti, insegno all'università, ma all'università mi hanno preso molto tardi, ci hanno messo più di vent'anni da che io insegnavo all'università a darmi una carta, quindi non è un problema. Però, insomma, devo dire che Carlo Infanta ci conosciamo dagli anni Ottanta, voglio dire, e anche con Angelo, quindi ci sono relazioni che si stabiliscono molto. Michele Sambin è uno dei maestri delle arti elettroniche che abbiamo riscoperto, dopo che la cultura italiana e anche quella videoartistica che l'aveva completamente dimenticato, l'abbiamo riscoperto due anni fa grazie all'università Roma 3 e al progetto Rewind Italia, che è un progetto di riscoperta dell'importanza mondiale dell'esperienza artistica e critica in ambito, io non la chiamo videoarte, la chiamo cinegrafia elettronica, che hanno fatto gli scozzesi, investendo per riscoprire l'importanza degli artisti, delle opere e dei critici, Carlo Infanta compreso, dell'esperienza degli anni 70, 80 e 90 italiana in ambito di ricerca espressiva sui nuovi media, hanno investito 500.000 sterline in un anno di ricerca che è 10-15 volte di più quello che non ci hanno mai dato la regione Lazio, il ministero, i ministeri, eccetera. Quindi, francamente, abbiamo ritrovato le opere di Sambin, sono state restaurate in Scozia e le abbiamo presentate al macro pagando l'affitto al macro. Sì, sì, no, questo caso è un caso sintomatico ma ce ne sono tanti altri, voglio dire, il problema però ne potremmo parlare perché poi si stabiliscono tante connessioni, per esempio io qui vedo di essere un diverso perché sono l'unico professore e quindi mi fa piacere essere, diciamo, difendere la diversità culturale dei professori, ma in questa veste porto anche il, diciamo, non il patrocinio perché non ne abbiamo parlato, ma sicuramente la possibilità di collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Roma 3, che adesso si è fuso per effetto della legge Gelmini appunto Cinema, Teatro, Nuovi Media con Filosofia, ma insomma, prima era un dipartimento, era il più grosso dipartimento interdisciplinare sulle materie e le teorie dello spettacolo e dei linguaggi dal teatro al cinema elettronico in Europa e anche ben valutato dalla VQR nazionale, siamo terzi in Italia per valutazione di ricerca scientifica e abbiamo anche un centro di produzione di audiovisivi che produce documentari, film, produce tantissime, vince quasi tutti i premi, ma anche qui patologia o meno, noi non riusciamo né a farlo conoscere né a distribuire questi programmi, per esempio abbiamo realizzato un film di Cristian Carmosino che è L'ora d'amore sul sesso in carcere che è un film che ha vinto dieci festival e tanti altri, anche noi prima di Pippo del Bono abbiamo fatto i film sui barboni, Pippo è sempre vicino a noi, quindi in qualche modo questa esperienza potremmo integrarla in questo progetto, così come a saperlo stiamo realizzando con FederCulture che ha già aderito al Comitato Scientifico una ricerca collettiva alla quale potremmo inserire anche Easy Cult in questo festival, quindi come dire si stabiliscono delle relazioni ed è importante questo. Io volevo prima di rispondere alla domanda di Angelo fare due battute, una sulla politica me la evito perché è stata evocata da Carlo, evocata un po' da tutti, noi abbiamo un problema in Italia forse perché tutti quelli presenti in questa sala o in questo Comitato Scientifico sono tutti protagonisti a modo loro degli anni 70 e 80 e del dibattito culturale internazionale e anche istituzionale perché abbiamo contribuito tutti a modificare le leggi in Italia, a farle scrivere, a lavorare in Europa, però nessuno di noi ha accettato forse perché siamo un po' diversi, ha accettato di essere inseriti ufficialmente nel sistema politico, siamo stati e siamo secondo me classe dirigente ma non abbiamo accettato il sistema dei partiti perché ci ha fatto istintivamente orrore, era troppo diverso da quello che noi facevamo tra il 68 e il 78 e che abbiamo fatto e questo è un problema perché a mio modo di vedere in questo Paese il meglio della classe dirigente che si è formata con durezza negli anni 60 e 70 è entrata alla RAI, è andata nel teatro indipendente, ha fatto cinema, a volte ha fatto l'accademia, i professori universitari, gli istituti indipendenti ma non siamo entrati nel sistema dei partiti e questo ha lasciato i partiti, come dire, sguarniti della nostra autorevole consulenza ma soprattutto in mano a quelli più diciamo mediocri, più omologati, meno colti, che hanno osato di meno e questo secondo me un po' in tutti i partiti, oserei dire anche nella destra perché e questo potrebbe essere un problema nel senso che non so, si vedono i risultati e un altro modo avete visto che tutti quelli che parlano qui che hanno una certa età incensano la loro generazione e il loro lavoro, è un nostro difetto, io volevo dare il mio contributo in questa direzione. Quello che mi interessa dei temi di questo convegno, mi preoccupa sempre, come anche a Carlo, ma questo credo sia la nostra formazione interdisciplinare e internazionale nel senso di pensare oltre i confini da sempre, mi preoccupa sempre quando un convegno, un tema, eccetera, focalizza troppo su un argomento che potrebbe essere rinchiuso in un recinto, il recinto della diversità, del disagio, eccetera, è un recinto terribile perché può produrre molto ma anche richiudere molto. Io negli anni 70 a Torino avevo imparato nel 72-73 lavorando anche per liberare i matti dell'ospedale di Collegno, dell'ospedale psichiatrico di Collegno e nel lavorare con le femministe il concetto di istituzione totale che mi aveva molto impressionato, cioè il fatto che i manicomi, i carceri, gli ospedali, le scuole, le università fossero chiamate totali non perché richiudevano la gente, era un concetto sociologico degli anni 70, non perché richiudevano la gente, che era già un problema, ma perché li totalizzavano la mente, cioè la gente non poteva più uscire, quando uscivano pensavano dove volevano rientrare, perché era un sistema che creava dipendenza, era la vera droga, non erano le droge, l'LSD, la marijuana, la droga che andavamo combattendo in quegli anni, non era neanche vero che tutti la considerassimo la droga liberatoria, io no per esempio, ma insomma altri sì, ma la vera droga che abbiamo cercato di combattere e non ci siamo riusciti è stata la totalizzazione delle istituzioni, noi lottavamo per la riforma della scuola, non soltanto per migliorare i programmi, ma per impedire che la scolarizzazione di massa diventasse l'abitudine al lavoro di fabbrica, che il campanello che scandiva gli orari delle lezioni abituasse generazioni intere al lavoro dell'operaio massa, poi è saltato tutto questo, ma la nostra paura e il motivo nobile per cui cercavo di lavorare anche con gli psichiatri è che volevamo combattere gli effetti totalizzanti delle istituzioni sulla psiche, sulle abitudini, sulle emozioni delle persone e pensavamo che da questa totalizzazione il medium e il messaggio, la struttura produceva totalizzazione, bisognasse essere liberati. Io credo che sia per questo che alcuni hanno scelto la strada della rivolta armata, altri hanno scelto quella del teatro, io personalmente ho scelto di interessarmi dei linguaggi dell'arte, quindi di studiare anche teoria, io non sono mai stato un artista, però la mia artisticità è quella di occuparmi creativamente delle teorie e di rispettare infinitamente gli artisti. Allora, quello che ho imparato è che gli artisti, tutti gli artisti di qualunque disciplina si occupino, sono il sale della ricerca scientifica, scientifica proprio, nel senso che senza il persiero trasversale dell'artista non si esplorano i nuovi linguaggi, non si esplorano le nuove tecnologie, non si esplorano le nuove forme, non si riesce a capire nulla di tante cose. Gli ingegneri, i critici, i teorici, i politici sono tutti in debito nei confronti degli artisti, da sempre. L'artista è necessario alla ricerca scientifica e all'etica perché fa un lavoro di esplorazione di tecniche, di poesis, di linguaggi, di forme, di strutture di comunicazione, di metodi di comunicazione. La videocamera portatile, quella che ci sta riprendendo, è il risultato oramai massificato dell'utopia artistica di un artista che si chiama Nanjun Paik che nel 59 ha proposto al suo compagno di banco all'Università di Tokyo, che era il figlio del padrone della Sony, di democratizzare la telecamera ed è nata la videocamera. Il personal computer è il risultato del desiderio di alcuni giovani filosofi e informatici che avevano fatto nel 68 negli Stati Uniti, che per opporsi all'IBM e al suo potere centralizzante hanno pensato di personalizzare l'informatica e di democratizzarla. Allora, queste sono le cose su cui noi siamo cresciuti. Gli artisti sono necessari alla ricerca scientifica in senso proprio, non soltanto perché ci aiutano a evadere o a pensare diversamente, ma proprio perché ci danno delle indicazioni. Il problema del disagio, se può essere preso in senso specifico, proprio, il disagio di tante nature ha delle connotazioni mediche evidenti, vabbè, ma quello che io vorrei sottolineare è che io ho sempre pensato che tutti noi, tutte le persone normali siano un po' disagiate e che gli artisti e anche i teorici o i critici che apprezzano seriamente gli artisti e non ne vogliono fare solo oggetti di mercato, gli artisti siano naturalmente contro il disagio perché sono, come dire, sono in disagio nei confronti dello stato di cose esistenti. L'artista, come il rivoluzionario o il teorico che inventa nuove forme di relazione tra i pensieri, è uno che non si accontenta dello stato di cose esistenti, che cerca nuovi mondi, nuove forme, nuovi pensieri, cerca, come dice benissimo San Bing, di allargare la propria vita, non solo di allungarla. Allora, l'arte è l'espressione necessaria, è la risposta necessaria al disagio per lo stato di cose esistenti, al disagio per i luoghi comuni, al disagio per il conosciuto, al disagio per il già detto, al disagio per il bla bla, al disagio per tutto questo. L'arte è necessaria, insieme alla ricerca scientifica, per l'allargamento della nostra consapevolezza di esistere. Non solo l'arte che direttamente parla di carceri, di manicomi o di disagio sociale, ma tutta l'arte, tutta quanta. Così come il problema della diversità, è un'altra questione interessante sul piano filosofico, perché parlare della diversità vorrebbe dire in qualche modo identificare la normalità. E invece più si parla di diversità, più, come diceva Pasolini, ci si accorge che la normalità non esiste, che la nevrosi ci ramifica dentro, che noi siamo tutti malati. O come diceva Charlie Cepin, che i linguaggi apparentemente sani si trasformano in linguaggi malati, i linguaggi sani dei politici, voglio la pace e non la guerra, producono la guerra. Era nel 57, è una battuta della contessa di Hong Kong, voglio dire, sono cose che si sanno, ma che ovviamente la cultura cerca di marginalizzare. Allora a me interessa il lavoro che è fatto è perché stabilisce reti su questa importante rete che può essere estesa anche a livello internazionale, di esperienze che fa. Io ho presente delle esperienze a Strasburgo, di cineasti che lavorano sul carcere già da molto tempo, di video artisti, addirittura loro. Ma insomma si può estendere nello specifico, però sarebbe bello che un'iniziativa del genere aiutasse il maggior numero di persone a capire che il disagio che produce l'arte è la necessità dell'arte e che la diversità è la diversità del pensiero trasversale, cioè del pensiero artistico, del pensiero creativo. Ora, la questione della video arte che tu mi hai posto all'inizio è, secondo me, giusta, ma anche superata. Nel senso che la video arte non è mai esistita, nel senso che è un termine che hanno inventato i mercanti d'arte new yorkese degli anni 70, mentre gli artisti, poeti, cineasti, fotografi, danzatori, musicisti che si occupavano di immagine e suono elettronico, hanno sempre preferito chiamare quella cosa lì, quel livello di esperienze, arti elettroniche. Oggi ci sono quelle digitali, possiamo discutere se la video arte analogica è finita con il digitale, se la rete sostituisce, ma sono questioni, come dice Jacomont parlando della fine del cinema, il cinema alla fine finirà il cinema ma rimane il cinema. si tratta di definizioni anche molto troppo legate allo stato attuale della tecnologia. Quello che ci interessa è che con i mezzi elettronici, analogici o digitali, un certo numero di persone ha creato nuove forme espressive, nuovi linguaggi che hanno arricchito il linguaggio della comunicazione, della televisione, del cinema, anche del cinema mainstream, della pubblicità, oltre che quello dell'arte. E questo è il loro valore fondamentale. Dopodiché pochissimi di questi si sono venduti al mercato, il fatto che non si siano venduti al mercato li ha isolati dal mercato e quindi dai mass media e dalla comunicazione. In Italia poi abbiamo una classe di assessori alla cultura che non è mai andata oltre il teatro, un teatro inteso nel senso più banale, o l'opera lirica, continuiamo a ripetere spettacoli del Settecento e dell'Ottocento con i vestiti del Novecento. Insomma, nessuno dei nostri, nonostante le provocazioni e le lezioni di Pasolini, di Zavattini, vuol dire, Zavattini scriveva nel 1956, due anni dopo l'inizio delle trasmissioni televisive, che bisognava insegnare i linguaggi del cinema e della televisione in televisione, per rendere lo spettatore televisivo meno totalizzato, meno passivo di fronte ai linguaggi potenzialmente devastanti dei nuovi media. Insomma, tutto questo è stato abilmente, voglio dire, abbiamo una classe politica in cui i migliori che hanno formato alcuni di quelli che stavano al governo fino a poco tempo fa, Pietro Ingrao, io me lo ricordo con un'esperienza drammatica, Pietro Ingrao è un grande personaggio, un grande uomo di cinema e di poesia, oltre che politico. No, lui da Fabio Fazio ha una domanda precisa, ha detto, io nel 1937, dopo l'esito della guerra di Spagna, ho preso tutti i libri di cinema che avevo sulla mia scrivania, li ho spazzati via, ha fatto questo gesto e mi sono dedicato alla politica. Ecco, è quello il motivo per cui la videoarte è marginalizzata. Quando addirittura Ingrao non capisce che il suo occuparsi di cinema era politica, perché avrebbe aiutato, e qui chiudo, a realizzare quello che anche Carlo con rabbia ha detto prima, che noi andiamo anche oggi con Silvia Costa, col Parlamento europeo, a dire, guardate che il problema non è solo, per carità, solo l'accesso del cittadino europeo al web, non è solo il digital divide, la banda larga, quello è un problema tecnologico. Il problema è che oltre alle tecnologie, per cui i soldi poi vanno a film meccanica, ad Apple, cioè alle multinazionali che producono, a Eutelsat, ma non vanno al cittadino, oltre al problema delle tecnologie, il problema è quello dell'educazione all'accesso creativo alle tecnologie, e la film literacy, media literacy, educazione all'arte, diffusione del pensiero critico. Ma come si fa a dire nel ventunesimo secolo che il problema è soltanto ed esclusivamente l'accesso a internet? E poi una volta che accedi, voglio dire, la metafora del navigare è terrificante, uno naviga ma si annega come si vede nel Mediterraneo, se non ha una bussola, se non la sa usare, se non sa dove andare, se non sa come prendere le onde, ma stiamo scherzando. E questo è politica e questo è anche arte. Grazie. Applausi Io credo...